Per la prima volta dopo la pandemia, la Corea del Nord accoglierà un gruppo di turisti in visita nel paese. Venerdì 9 febbraio, i primi viaggiatori stranieri russi sono partiti dall'aeroporto di Vladivostok, nell'estremo oriente russo, alla volta di Pyongyang. Il gruppo visiterà proprio la capitale nordcoreana e poi andrà a sciare, ha dichiarato Inna Mokina, direttrice dell'agenzia che ha organizzato il viaggio. Il viaggio potrebbe aprire la strada ad altri collegamenti tra Mosca e Pyongyang. Le relazioni tra i due paesi sono sempre più solide, anche dopo l'incontro dello scorso settembre tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin. Grazie.